I grandissimi 800 iscritti del grandissimo Dellimello Sì cani, avete capito bene, ho raggiunto 800 iscritti Chi l'avrebbe mai detto quando ho inserito YouTube che avrei raggiunto questa cifra? Bravissimo, bravissimo, grandissimo Dellimello Cioè, grandissimo Dellimello lo sapeva, però magari gli altri non lo sapevano e potrebbe essere complicato Ovviamente voglio dire alcune cose Sono passate poco le lezioni, i video sulla politica non sono finiti, ce ne saranno altri Penso uno girerò dopo questo video, ma lo pubblico domani Parlere un po' della situazione politica Però volevo ringraziare innanzitutto Trailer Mesh Up Questo ragazzo, buono come il pane, che mi ha aiutato per tantissime cose Iscrivetevi al suo canale, io non capisco come faccia ad avere così pochi iscritti con un prodotto così buono Su YouTube Italia è l'unico che lo fa Mischia la traccia sonora di un trailer con le immagini di altri film Quindi crea, che ne so, 007 vs Spider-Man, cosa così Non è esattamente come vi ho detto, però ci sono una serie di trailer infiniti, dovete vederli E quindi iscrivetevi e ditevi che vi ho mandato io Trailer Mesh Up Mesh Up Trailer Detto questo voglio ringraziare voi, con i quali ho seguito per la prima volta le lezioni in modalità 2.0 Attraverso i social, la multimedialità È stato davvero davvero divertente parlare con così tante persone Così tante persone di tantissima età Cosa che in genere nella vita reale non capita Perché spesso ci si confronta solo con coetani Invece qui ho parlato con ragazzi più giovani, con ragazzi più grandi È stato bello Ho raggiunto, come vi ho detto, 800 iscritti E mi rifaccio complimenti a grandissimo Delimello A voi grandissimi 800 iscritti Non ringrazio perché voi vi siete iscritti Perché il canale vi piace, spero E se volete continuare a far crescere il canale E aiutarmi a creare questo canale Che io ho chiamato Delimello Forum Channel Forum Ci tengo a questa parola, non a Delimello per una volta Perché è questo che volevo creare, cioè un canale dove si parla di tutto Senza pensare al prodotto, senza pensare al format, cose così Io faccio il video e semplicemente poi si discute qui E sul social network di quello che ho parlato Questo volevo creare Non ero in grado di creare un forum perché è troppo difficile Questa è la cosa più facile che mi è venuta in mente Quindi grazie delle discussioni che mi fate fare E se vogliamo far crescere questo forum Se vi piace l'idea del forum in video Quando vedete un video che vi piace Mettete un mi piace, commentate se vi è piaciuto E condividetelo Magari non sulla vostra bacheca Facebook Perché so che i miei non sono video condivisibili Però magari mandate in privato il video a un amico Ditevi di iscrivervi E che facciamo più cacchierate Però ho detto che non creo un format Ma al marketing io ci tengo E come il grandissimo dell'email è un modo Diciamo per rendere il video corribile Perché quando si parla di argomenti troppo serri Magari su YouTube questa cosa non va bene Ho creato un video L'avete sicuramente visto Si chiama Epico Sto Cazzo Perché una volta io in un video sul secondo canale Parlai di come è usata la parola Epico Cioè veramente a buffo C'è questo spezzone che mi ha fatto appunto Un mashup trailer Dove dico Epico Sto Cazzo Cliccate su questo video, dura due secondi Solo questo vi dico Se vedete qualcuno che usa la parola Epico In qualche posto Linkateli il mio video Epico Sto Cazzo Aiuterà a far crescere un pochino il canale Grazie a tutti Di aver seguito fino adesso il grandissimo dell'email E sappiate che voi siete 800 Perché sbagli? Lito grandissimo E voi siete gli 800 grandissimi iscritti cani Del grandissimo dell'email Ciao a tutti cani